Ed eccoci di nuovo insieme per questa seconda parte della nostra rassegna stampa, ancora un'altra prima pagina, prima di passare sul web, è quella del quotidiano Il Tempo, dove troviamo in apertura ancora la questione Affittopoli, il garante date i nomi degli inquilini, l'autorità della privacy ha determinate condizioni, le liste sono pubblicabili e poi nei nuovi elenchi la prova che 5 locatori su 6 non hanno diritto alla città. Il garante della privacy in una direttiva del 2011 spiega che le liste degli appartamenti comunali che hanno scatenato il caso a tutti noto come Affittopoli devono essere consultabili dai politici che ne fanno richiesta. Una norma che mette all'angolo il Campidoglio, intanto lo scandalo romano non si ferma, sono appena 61 i contratti di affitto regolari su 382 proprietà concesse in locazione. Dunque tanti inquilini continuano ad abitare gli appartamenti senza averne alcun diritto. Questi ulteriori aggiornamenti che arrivano sul caso che sta sconvolgendo il Campidoglio. In fotonotizia lo vedete tutti, c'è Matteo Salvini, Cortè in piazza, Salvini paga i soliti cretini, no? Il Campidoglio gli chiede dei soldi per gli sfascia vetrine, invece è tutto gratis. Questa è la fotonotizia in taglio centrale sul tempo. Ed ancora altri titoli, il governo, il bonus per le paritarie, 30.000 prof a piedi, mancano le cattedre. Poi spariti nel nulla, mille bimbi sbarcati, arrivano in Italia soli e clandestini. E l'addio al segreto bancario con l'accordo con la Svizzera, il più vicino paradiso fiscale. Altro titolo, prima di passare al web, si parla dei rimborsi da un milione per gli ex deputati. Bocciata la proposta di tagliarli e per i vitalizi si spendono più di 200 milioni. Non siedono più in aula ma ricevono ancora i rimborsi spese. Sono gli ex parlamentari per cui ogni anno l'amministrazione stanzia quasi un milione di euro. La proposta di tagliare presentata dal Movimento 5 Stelle è stata bocciata. Ma Fraccaro assicura la ripresenterò presto. Gli ex deputati e senatori costano soprattutto per i vitalizi. Parliamo di oltre 200 milioni di euro, una cifra a dir poco da capogiro. E come vi dicevo lasciamo un attimo i quotidiani per andare sul web ad approfondire le principali notizie di oggi. Prima una rapida scorsa, quelli che sono i titoli sull'Aum dell'Ansa e poi le notizie più importanti. Buon punto di partenza, solo due le misure sociali. Questa la dichiarazione dell'Unione Europea rispetto al piano della Grecia. Possibile l'estensione del salario minimo e buoni pasto. Energia, poveri, meno, ministri e ministeri. La lista di riforme chiesta dall'Eurogruppo al governo greco è arrivata nella notte in ritardo, come abbiamo appreso dai quotidiani. Poi si parla di borsa con Atene che è in forte rialzo e lo spread che va giù. Tassi ai minimi ed ancora, andando invece tornando in Italia, c'è su questa homepage dell'Ansa Landini con il Jobs Act che cancella le tutele dello statuto lavoratori. Il segretario della FIOM, io in politica, deciderà la CGL nel 2018. Questa è la sua dichiarazione. Ancora, anche qui l'accordo tra l'Italia e la Svizzera con lo stop al segreto bancario. Cosa cambia? Il patto in sei punti, basta con i paradisi fiscali, l'accordo prevede lo scambio di informazioni con la federazione elbetica. Ora torneranno miliardi a casa nostra, queste le parole di Renzi che abbiamo ampiamente visto sui quotidiani. C'è anche Finmeccanica che vende ai taci e a un saldo ebreda. L'indebitamento scende di 600 milioni e la plusvalenza 250 milioni. Ancora la Siria, l'Isis che brucia una chiesa e sequestra centinaia di caldei. Il numero non è confermato, sarebbe accaduto del villaggio di Tel Tamer nell'est del paese a riferirlo a Newsweek. Ancora, sempre, Isis con nuove minacce all'Italia. Sono pronti i nostri lupi solitari. Per quanto riguarda la Francia, la porta aerei de Gaulle abbia un'operazione nel Golfo. Ragazze britanniche poi fuggite, indottrinate da 70 estremisti su Twitter. Queste sono le principali notizie che troviamo sul sito dell'ANSA. Iniziamo proprio a vedere che cosa andrà a cambiare con l'accordo fermato con la Svizzera. A siglarlo, l'abbiamo detto, il ministro Pier Carlo Padoan. Addio al segreto bancario, grazie allo scambio di informazioni. È questo che prevede l'intesa. L'accordo consente immediatamente alle autorità italiane di individuare potenziali evasori che detengono patrimoni in territorio svizzero. e secondo il MEF sarà quindi di stimolo a rientro con l'opzione volontaria. In un'ottica di lungo termine, l'accordo porterà grandi benefici per le finanze pubbliche, ha commentato il ministro Padoan, che ha giunto scherzando sui possibili ricavi dell'accordo. A bilancio questo accordo è postato un euro, ma azzardo una previsione sarà più di un euro. Mi fermo qui, non vado oltre. Ovviamente abbiamo già visto anche la soddisfazione del Premier. E parlando delle nostre questioni interne, c'è Landini che si pronuncia sul Jobs Act. Le tutele dello statuto dei lavoratori ora sono cancellate. Sui provvedimenti del governo siamo di fronte a dei dati concreti. In un paese in cui esisteva solo lo statuto dei lavoratori, che conteneva dei provvedimenti di tutela delle persone che lavorano, quei provvedimenti sono stati eliminati. Così il segretario generale della FIOM, Maurizio Landini. Io voglio continuare a fare il sindacalista. Io dico che per la prima volta nella nostra storia democratica non c'è una rappresentanza politica del lavoro. È in atto un attacco al ruolo, anche politico, che il sindacato generale ha sempre svolto in Italia. Non posso non pormi il problema di contrastare questo processo. Matteo Renzi ha scelto Confindustria, è peggio di Berlusconi. C'è una compressione di diritti che non ha precedenti. E poi alla domanda se una coalizione sociale non sia il primo passo per dare vita a un partito, Landini replica. Non è così. Una coalizione sociale vuol dire mettere insieme chi agisce nel sociale con al centro la questione del lavoro. Questi virgolettati che appartengono appunto al leader FIOM che si è pronunciato sul Jobs Act. E proprio di Jobs Act parliamo anche con le parole del ministro Poletti. Smantellare l'articolo 18 un anno fa non lo avrei immaginato. Non in questi termini, così risponde a Bruno Vespa, il ministro del lavoro, alla puntata di Porta a Porta su Rai 1. Quando siamo partiti c'era un ragionamento che diceva abbiamo bisogno di cambiare radicalmente. Non avevamo puntualmente definito tutti i punti su cui intervenire, i singoli problemi, continua ancora il ministro. La situazione di oggi non è quella di 20 anni fa. Era maturata la consapevolezza in Italia che c'era la necessità di un cambiamento radicale. I cittadini hanno realizzato che così non era possibile andare avanti. Queste sono appunto le parole del ministro Poletti riguardo proprio alla questione del Jobs Act e ancora più dell'articolo 18. Con questa notizia lasciamo le cronache nazionali e ci spostiamo direttamente sulla Capitale per andare a vedere anche qui le notizie più importanti di oggi. Lo facciamo dal quotidiano Il Tempo nella sezione dedicata proprio a Roma. In apertura troviamo una notizia che riguarda la sanità. Si parla del CTO in rivolta contro l'ASL Roma C. In crisi il centro di eccellenza orto-traumatologico vogliono chiuderci questo l'allarme lanciato. I medici accusano il dirigente Saito di tagliare personale e posti letto. Ancora una volta la questione sanitaria è al centro delle cronache capitoline, ma non solo anche regionali, visto che questo centro è di riferimento per Roma ma per l'intera regione Lazio. Se vai avanti così meglio chiudere l'ospedale. I rappresentanti sindacali delle sigle stavolta sono stati tanto provocatori quanto netti. Si attendono dalla direzione generale dell'ASL Roma C e dalla direzione sanitaria una rivalutazione delle ultime decisioni prese. Altrimenti basta, dicono, perché continuare a lavorare così è impossibile. Prosegue il dissanguamento del CTO di Garbatella da centro di eccellenza orto-traumatologico a nosocomio sempre più svuotato. Il caso di mala sanità della paziente affetta da tumore a cui è stato asportato il renesano è stata la causa per far chiarezza su una situazione giunta ormai al limite, come la definisce il personale medico e paramedico. Promesse elettorali disattese, una sinergia con l'INA e il nefatti mai decollata, rischi sicurezza all'ordine del giorno, servizi importanti ancora mancanti. L'ultima novità è del 13 di febbraio scorso, giorno in cui è stata firmata dal DG dell'ASL Roma C, Carlo Saito, la delibera 149, che prevede lo spostamento di ufficio al vicino Sant'Eugenio di personale infermieristico in servizio presso l'equip d'urgenza di sala operatoria. 5 strumentisti, 4 unità del pronto soccorso medico e trauma autologico, 2 della radiologia per le esigenze di un istituendo reparto di medicina subintensiva del Sant'Eugenio, rientrante nel piano di emergenza per l'influenza. Questo un po' in sintesi e a grandi linee la situazione, le condizioni del CTO e quanto sta accadendo. Ovviamente anche la volontà di tenere il punto da parte dei lavoratori e delle sigle sindacali che non ci stanno ad assistere allo smembramento di questo centro di eccellenza. Ancora una volta torniamo sulla questione della vendita dei musei e arriva l'ultimatum di EURSPA. al governo i ministeri di economia e beni culturali devono decidere entro questo venerdì per la cessione dei beni. Pierluigi Borghini torna all'attacco sulla vendita dei musei dell'EURSPA e lancia una sorta di ultimatum ai ministeri di economia e finanza e beni culturali. Hanno tempo fino al prossimo venerdì per decidere sull'eventuale cessione. Da quell'operazione il presidente della società partecipata al 90% dal MEF e al 10% dal Comune di Roma conta di ricavare almeno 300 milioni di euro che serviranno a completare i lavori della nuvola di Fuxas e a riaprire le finanze a sei compromesse della società. Ma l'idea ha sollevato diverse polemiche a partire proprio dal ministro dei beni culturali Dario Franceschini e a finire poi con i lavoratori già in agitazione per il rischio licenziamento di 120 unità conseguenza della cessione dei beni della perdita di circa 20 milioni di euro l'anno che graverebbe a quel punto sull'EURSPA. Questa è la situazione e l'ulteriore sviluppo per quanto riguarda la vendita dei beni di EURSPA per favorire il completamento della struttura congressuale nota a tutti come la nuvola. Ci fermiamo ancora per una brevissima pausa ma poi altre notizie dalla Capitale e non solo.